Altra risposta, nell'angolo delle risposte diamo un tema per piacere a questo momento in cui cerco di dare le risposte ai vostri commenti, oggi parlo con Maurizio e l'ombreggiamento dei pannelli solari termici, però questo te lo dico dopo l'intro, intro, 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 basta. Maurizio grazie per il tuo bel commento e anche tutti gli altri commenti che fai, generalmente sono commenti molto pensati e molto belli e oggi sfrutto proprio la domanda che tu mi hai fatto. Allora mi scrivi, vabbè come sempre squadra al top, grazie, e una domanda Ugo al minuto 2.05 la canna fumaria non farà ombra ai pannelli solari? Wow ma tu ti metti la cronometrare proprio i secondi, bravo grazie. Allora la domanda ha un senso, effettivamente ci sono in diverse situazioni in cui i pannelli solari termici possono venire ombreggiati da un camino oppure da un doppio sfalso di falda e quindi la tua domanda ha un senso logico. Rispetto al fotovoltaico, che hanno bisogno di ottimizzatori oppure i vecchi fotovoltaici, non si potevano proprio installare se avevano degli ombreggiamenti e anche un semplice filo della corrente elettrica perché non funzionavano, qui per il solare termico la cosa è un po' diversa. Essendo che nel solare termico all'interno c'è un glicole che si riscalda grazie ai raggi solari e alla temperatura esterna, poi il glicole va nel puffer e cede il suo calore all'acqua, però questo principio è un principio termico e fisico rispetto al fotovoltaico. Quindi se anche in un determinato momento della giornata, 10 minuti, mezz'ora, un'ora, una parte di un pannello solare viene ombreggiata dal camino come in questo caso, e quindi giustissima osservazione, il rendimento dell'impianto solare termico non subisce nessuna trasformazione. O meglio, è vero che si ombreggia un po', però questo ombreggiamento non va ad influire in maniera considerevole con la temperatura e quindi le prestazioni del solare termico. Grazie Maurizio per la tua domanda. Sembra una domanda banale, ma in realtà è una domanda intanto molto ricercata e poi che ha un senso tecnico molto bello e spiccato. Grazie mille. Quindi ringraziato Maurizio, io vi saluto, lasciami anche tu i tuoi commenti, se hai domande come quelle di Maurizio o sei osservazioni, e non guardarti tutti i miei video perché altrimenti sai che due... Quindi ciao Maurizio, ciao a tutti, commenti, like al video e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!